amici d'italica ho già capito che vi piacciono le sfide perciò vi propongo un nuovo test come si dice pasta gidencis in italiano a pasta al dente b crema dentale c dentifricio hai risposto lettera a pasta al dente no ci mancherebbe la risposta giusta è la lettera c dentifricio lo so è una parolina un po strana ma esiste anche in portoghese nell'ebook frasi su tes du gia gia in italiano trovi molte altre parole di questo ambito tipo penci scova fiudentao saboneci condizionador eccetera allora scaricalo subito oggi vi racconterò una curiosità e vi darò un consiglio preziosissimo che vi aiuterà a evitare una situazione imbarazzante ma prima una cosa curiosa è comune trovare vasche da bagno nelle case o negli alberghi italiani molte volte trovi il soffione della doccia o shuveru sopra la vasca perciò dovrai entrare nella vasca e fare la doccia in piedi a volte però può capitare che il soffione della doccia sia mobile e in questo caso tu devi alzarlo e fissarlo alla parete in un gancio apposito ora il consiglio importantissimo a differenza del brasile in italia si può anzi si deve gettare la carta igienica usata nel water le tubazioni sono adatte a smaltire questo tipo di scarto perciò non bisogna preoccuparsi con un possibile intasamento troverai comunque un cestino in bagno ma ci devi gettare cose meno sporche diciamo ok altrimenti puoi far venire un colpo alla persona responsabile delle pulizie della tua camera buon questo consiglio è veramente molto importante non è non deixe quindi di marcar i suoi amici oi familiari che sono presto a irei per l'Italia per che anche già sappiamo di questo e se sei passato per una situazione ingrazzata o constrangedora in Italia o in un altro paese in Europa comente qui in basso del video per noi grazie ti vediamo domani grazie a tutti